Botteghe antiche rinascimentali riaprono in Piazza Grande, sotto le logge Vasari e la terra battuta prende il posto della pietra sul selciato di via Vasari. Motore silenzio per favore! Sono le riprese del film Il Peccato, una visione dedicato a Michelangelo del regista Andrei Koncialovski. E così Arezzo e Piazza Grande tornano nel grande schermo a pochi mesi dai festeggiamenti per i vent'anni della vita è bella. Sì, è già da molto tempo che gli uffici si interfacciano sia con la Film Commission che con la produzione, quasi un anno fa che è cominciato questo percorso, perché comunque è un film veramente importante, che anche se la scena di Arezzo è una scena relativamente piccola, comunque ha impegnato veramente tanti. Quindi siamo orgogliosi perché sapete quanto puntiamo sulla parte anche turistica di Arezzo e sappiamo altrettanto bene che è ancora poco conosciuta, soprattutto in ambito toscano. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per far sì che il mondo conosca soprattutto le nostre bellezze. Quindi in questo caso viene girata la scena in Piazza Grande che noi siamo orgogliosi di avere come gioiello della città. Quindi siamo sicuramente contenti, ringrazio la produzione della Film Commission per aver scelto comunque Arezzo e spero che sia un percorso che inizia qua e che aumenti magari anche con dei film che fanno proprio di Arezzo il punto di riferimento dell'intera produzione. Il grande regista ha scelto anche Monte San Savino per la sua pellicola dedicata appunto a Michelangelo, particolarmente legato a quel Giorgio Vasari con il quale si scambiò l'ormai famoso e conteso carteggio che presto peraltro sarà anche oggetto di una mostra. Il film ha un budget di 14 milioni di euro, il regista ha voluto soltanto attori e maestranze italiane. Sì, il maestro ama moltissimo questa zona, lui è assolutamente innamorato con Toscana e secondo lui questo film non può essere girato senza gli attori italiani e alcuna lingua straniera non può mostrare la bellezza della cultura. È veramente necessario girare questo film qui in Italia con gli attori italiani in lingua italiana e per lui è veramente importante perché soltanto così il film può essere organico, può essere naturale. Grande collaborazione da parte di tutta la città di Arezzo alla logistica ed in questo la Fraternità dei Laici e del suo primo rettore Pierluigi Rossi hanno dato un importante contributo spalancando ancora una volta il portone di Piazza Grande.